Salmone allo zenzero e limone. Facile, diverso dal solito e davvero buono. Per prima cosa forziona il filetto di salmone. Ungi quindi la pelle. Aggiungi un po' di sale. Rosola il pesce dalla parte della pelle per circa 10 minuti. Grattugia la buccia di un limone. Grattugia lo zenzero. Spremi il limone. Gira il salmone e cuoci per altri 3-4 minuti. A fine cottura aggiungi lo zenzero, il succo e la buccia del limone. Trasferisci il salmone nei piatti. Aggiungi un po' di acqua al fondo di cottura. Mescola un cucchiaino di maizena con abbondante olio. Aggiungi il composto al fondo di cottura per addensarlo. Cospargi il salmone con la salsina e buon appetito!